Io ho tante immagini belle, ma adesso non stiamo qui a raccontarle, anche un po' così, però belle, bei tempi. Ti sembra una bella sfida quella con Napoli, no? Sono sempre state sfide dure in Inter-Napoli, poi in quel periodo lì era una squadra che vinceva, si sta portando anche questa, belle, belle sfide. Ci sono tutti ingredienti perché c'è una sfida, una bella partita ricca di molti aspetti. Tu la vorresti in mezzo a Brighi, ma da un anno che lo mancavi? Ogni tanto il torno metteva anche io, non è che ero piccolino, rapido, magari un po' meno possente di Brighi, però faceva queste marcature a uomo, quindi i grandi giocatori l'abbiamo fatto anche noi con Pirlo, quindi non bisogna mica vergognarsi di fare certe cose, era un calcio così e sicuramente è stato il più grande giocatore che è venuto qua. Poi insomma domani sono tanti argentini di qua e di là, è bella insomma, tante cose poi belle insomma da vedere. Io firmo! Grazie! Grazie!